Mancano poche ore per il fischio d'inizio del 25esimo turno dei massimi campionati regionali di calcio direttantistico. In eccellenza ad aprire la giornata ci sarà che la Nise Agropoli. Gli uomini di Alessio Martino in casa non hanno mai perso e una vittoria gli garantirebbe la possibilità di continuare a lottare per i play-off. Un eventuale successo di Irpino all'Ambrosini spalancherebbe le porte per l'accesso al primato a Santo Maso e Cervinara. I biancoverdi saranno ospiti del Costa d'Amalfi, quinto in classifica, mentre i cervi faranno visita alla Battipagliese. Giocheranno in casa anche Vietu Savellino e Solofra, la prima contro la Palmese, i conciari invece contro l'ostico Cassa e San Giorgio. In promozione ad aprire le danze della 25esima giornata ci penserà la sfida fra Lions, Mons, Militum e Lioni. La terza della classe, LFC Avellino, invece ospiterà a Rocca la Sanseverinese, mentre il Grotta si troverà di fronte alla Pisaccese.